Marco Travaglio, oggi al Senato il Ministro della Giustizia Nordio ha ripetuto che i boss mafiosi non parlano al telefono dei loro delitti, ha confermato la riforma delle intercettazioni che riguarderà però solo i reati di mafia e terrorismo, quindi siamo tranquilli? Cioè, ha detto che non toccherà le intercettazioni per mafia e terrorismo mentre invece le limiterà per tutti gli altri reati come se gli altri reati fossero bruscolini. Ma diciamo, come si fa a essere rassicurati? Questo non è più nemmeno un ministro, è una macchietta, è anche sfortunato poveretto perché a Natale aveva detto che i mafiosi al telefono non parlano, non parlano nemmeno nei campi perché hanno paura delle intercettazioni dei Trojan e dei microfoni direzionali. Poi aveva detto che il Trojan va abolito perché è una barbarie, è una porcheria che è un po' in contrasto con quello che ha detto prima perché si dice che i mafiosi non parlano perché hanno paura del Trojan, se poi trogli il Trojan perché è una porcheria e quelli ricominciano a parlare. Ma purtroppo per lui l'arresto di Messina Denaro ha dimostrato, come hanno detto i magistrati che l'hanno scovato insieme ai carabinieri del Ross, che senza quelle intercettazioni Messina Denaro sarebbe ancora latitante chissà per quanti anni. Allora poveretto, oggi ha dovuto rettificare però non ha voluto completamente darsi la zappa sui piedi e quindi ha detto no ma io intendevo dire che i mafiosi parlano ma non parlano di reati. Beh certo parleranno anche di donne di calcio però immagino che i magistrati delle intercettazioni dei mafiosi che parlano di donne di calcio se ne facciano poco. Credo che le intercettazioni che i magistrati hanno usato per trovare Messina Denaro fossero intercettazioni che riguardavano la latitanza di Messina Denaro, quindi dei reati che si chiamano favoreggiamento e tanti altri che hanno portato a cento arresti di altrettanti favoreggiatori che ancora porteranno ad altri arresti visto che si scoprono nascondigli, case, covi, collusioni, medici, massoni, insomma tutta la creme della società che ha protetto questo signore per 30 anni. Quindi insomma ogni volta che mette una toppa fa un altro buco ed è ti pare rassicurante che questo sia il ministro della giustizia in un paese serio, ma in un paese serio non farebbe, non dico il ministro, non farebbe niente probabilmente, l'avrebbero lasciato in pensione felici e contenti che non sia più magistrato. Allora, ognuno è rassicurato da cose diverse. Io sono rassicurato dal fatto che un magistrato di alto valore, qual è Nordio, sia oggi il ministro di Grazie e Giustizia. Marco Travaglio era rassicurato invece quando il ministro di Grazie e Giustizia era tal Bonafete, noto come Fofò DJ, con un curriculum da DJ e non con un curriculum di alto magistrato. Da avvocato. Scusa, io non ti ho interrotto, però ho 3 minuti e 40 secondi. Se mi fate esprimere poi mi dite che ho sbagliato tutto, però almeno fatemi esprimere. Sempre che ti dà del voi, Marco Travaglio. Lui è più interessato al curriculum di Fofò DJ, io è più interessato a Nordio. Nordio oggi ha detto due cose molto importanti. Uno, che il governo intende coniugare il garantismo con la certezza della pena. Quindi ha detto una cosa che rispetta la Costituzione, che è garantista, e rispetta la certezza della pena che è un valore della destra politica. Quindi ha detto una cosa giusta. Nessuno vuole limitare le intercettazioni, ma si vuole limitare l'abuso delle intercettazioni. Abuso di tempo, abuso di costi, abuso spesso di scelta del soggetto da intercettare per ragioni mediatiche, abuso per la propalazione di notizie che rovinano la vita delle persone. Quindi io credo che Nordio stia facendo un gran servizio al paese. Mi dispiace per travaglio, non siamo d'accordo, ma questa è una cosa normale. Io penso che Nordio sia molto migliore di Fofò Bonafede. Allora, sgombriamo il campo dagli equivoci. Io non penso che la Meloni voglia depotenziare la lotta alla mafia, non penso che questo sia un governo a favore della mafia. Così sgombriamo subito il campo. Io il primo titolo che ho fatto su questo governo era buona la prima, quando hanno fatto la legge sull'ergastolo stativo. Quindi io vorrei spiegare a Bocchino che a me, di chi c'è al governo, non me ne importa niente. Se fa cose buone, lo dico. Le cose buone le decido io in base alle mie idee. Allora, dato che io per vent'anni ho chiesto di bloccare la prescrizione, quando Bonafede ha bloccato la prescrizione, io l'ho applaudito. Non perché mi sta simpatico Bonafede, ma perché ha fatto una cosa che io chiedevo da vent'anni. Quando Bonafede ha fatto il reato di voto di scambio politico mafioso, dato che erano vent'anni che si diceva che quel reato aveva il buco, io l'ho applaudito perché l'ho chiesto per vent'anni. Se questo governo tocca le intercettazioni, non per levare gli abusi, perché gli abusi sono già un reato oggi. Quindi non c'è bisogno di stabilire per legge che non si fanno gli abusi, perché gli abusi sono già vietati dalla legge attuale e la diffusione di quelle che non c'entrano con i reati è già evitata dalla riforma Orlando che stabilisce l'archivio riservato delle procure. Quello che esce sui giornali è perché è inerente e perché è pubblico. Bocchino, quando combatteva la riforma Alfano nel 2010 dicendo che era assolutamente incostituzionale è perché Alfano diceva di voler limitare gli abusi, in realtà voleva limitare le intercettazioni dei magistrati per i reati dei colletti bianchi, non per la mafia, per la corruzione, per la truffa, per il peculato, per l'abuso d'ufficio, per il falso in bilancio, per la frode fiscale eccetera, cioè per gli stessi reati per cui li vuole limitare l'attuale governo. Allora, la domanda è, benissimo, io credo che Giorgia Meloni faccia politica perché a 16 anni è rimasta scioccata dalla strage di Via D'Amelio. Che cosa le è saltato in mente di nominare uno come Nordio in quel posto chiave, visto che Nordio oggi dice le stesse cose che diceva un anno fa e due anni fa e sono le cose che ha sempre detto Berlusconi, a cui Bocchino nel 2010 si oppose al punto di fare la scissione insieme a fini dal PDL. Adesso canta un'altra musica, io canto sempre la stessa musica, per me i magistrati devono intercettare chi sospettano di avere commesso reati, chiunque glielo lasci fare io lo applaudo, chiunque gli mette i bastoni fra le ruote io lo condanno, sia che si chiami buona fede, sia che si chiami Meloni, sia che si chiami Nordio. La prescrizione è uno degli elementi fondanti di una civiltà giuridica. Lo Stato deve perseguire il reato e si deve dare un tempo. Io non chiederei mai la prescrizione, rifiuterei la prescrizione. A te è capitato di chiederla una volta personalmente la prescrizione? Mai chiesta, mai chiesta né ottenuta. Dopo no, ma non è stata né chiesta né concessa, no, non è stato prescritto. È l'unica condanna definitiva che ho, una multa di mille euro. Informati, è falso. È l'unica condanna che ho, una multa di mille euro. L'hai detto tu che fu il tuo avvocato, quindi io dico la prescrizione. Non è stata accolta, non so cosa dirti, non c'è la prescrizione. Quindi se non è stata accolta, scusa, se non è stata accolta è stata richiesta, quindi ammetti che è stata chiesta la prescrizione. Ma l'ha chiesta l'avvocato, ma non gliel'hanno data. Ah, l'ha chiesta l'avvocato, tu è insaputa. Sai che tante persone sono successe cose a loro insaputa. Ma l'avvocato dell'Espresso, io cosa centro? Benvenuto nel club a mia insaputa. Ma non c'è, non ho mai preso una prescrizione, è rifiutata più forte. Ma tu sei contro gli abusi, sei contro il fatto che Nunez, nell'inchiesta Global Service, che ti ricorderai benissimo, si suicidò e poi è stato assolto, si suicidò per l'abuso delle intercettazioni sui giornali. Te lo ricordi il caso di Nunez? Chi chiede scusa a quella famiglia per un suicidio? Bisognerebbe raccontare tutta la storia. Non è vero? Non è vero? Io adesso non lo so se Nunez si è suicidato per le intercettazioni telefoniche. No, credo che non lo sape neanche Travaglio. Non so bene il caso. Marco Travaglio, a proposito di giustizia, sull'elezione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura è successo un gran pasticcio politico. Perché? Perché Fratelli Fratelli d'Italia ha candidato tra i suoi Giuseppe Valentino, che è anche ex sottosegretario, solo che Giuseppe Valentino è indagato in un'inchiesta, è finito dentro un'inchiesta sull'andrangheta e a questo punto sono stati costretti a ritirare la sua candidatura. Che cosa ci racconta questo incidente di percorso? Perché immagino che a Giorgia Meloni non abbia fatto piacere questo gran trambusto politico, questo pasticcio, nella migliore delle ipotesi? Rientra sempre nella sfortuna che questa cosa è capitata il giorno dopo la cattura di Messina Denaro e quindi quando candidi, non in un posto qualsiasi, al Consiglio Superiore della Magistratura per farne il vicepresidente, cioè il capo, perché di fatto è quello che gestisce il Consiglio per conto del Presidente della Repubblica che non è sempre presente. Ci metti uno che ha un'indagine collegata a quella di Gotha per Andrangheta. Per me è un presunto innocente ovviamente perché è soltanto indagato, ma a me quello che preoccupa non è il fatto che c'è l'indagine, è la sua biografia. È un signore che risulta in contatti strettissimi fino a quando non l'hanno arrestato con un certo Paolo Romeo, che non c'entra niente con l'amico di Bocchino, quello dello scandalo Consip, è un certo Paolo Romeo Calabrese, mai stato, Calabrese, che... Qualche frequentazione l'hai avuta? Allora, però non andiamo via dalle questioni personali. Non l'ho mai conosciuto in vita mia. Gli hai fatto un'intervista firmata da te? Sì, sì, è un'intervista scritta, certo, dove precisava delle sue cose. No, come giurista. Non l'ho intercettato, ne rinviato a giudizio per traffico di influenze, come sei invece tu insieme a Romeo. Ma lasciamo bene, questo Romeo qua si chiama Paolo, ed è stato con... Per chiedere alla cortesia di farti togliere le cause che ti aveva fatto Romeo e che ti sarebbero costate. Non ho mai chiesto nessuna cortesia a... Allora, scusate... Ho ancora i tuoi messaggi, Marco, di ringraziamento. Ha voluto precisare delle cose e l'abbiamo pubblicato volentieri, pubblichiamo le precisazioni di tutti quelli che vogliono dire qualcosa su ciò che abbiamo scritto di loro. Con molto piacere perché siamo giornalisti corretti. Dopodiché stavo parlando dell'amico di Valentino, che si chiama Paolo Romeo, che si è beccato in primo grado 25 anni per Ndrangheta ed è un ex fascista, neofascista, a avanguardia nazionale di ordine nuovo, re ho confesso di avere ospitato Franco Freda nella latitanza. Allora, la domanda è, ma come fa il partito del Presidente del Consiglio a proporre alla Vicepresidenza del CSM uno che a queste frequentazioni non mi interessa se è indagato o non indagato, eccetera. Ma voglio dire, ma le ragioni di opportunità politica, ma quando ci si sciacqua la bocca di Borsellino, ma Borsellino diceva prima che arrivi la magistratura i partiti facciano pulizia al loro interno e colpiscano anche i comportamenti che non sono reato. Perché non ci sono solo i reati, ci sono anche un sacco di altre cose che non sono reato, ma che con la politica non devono avere niente a che fare. Com'è possibile che il partito della Meloni sia arrivato a farlo votare? L'hanno disdettato durante la votazione. Allora, Giuseppe Valentino, oltre ad essere un noto avvocato e un noto giurista, è conosciuto a destra e a sinistra come un grandissimo galantuomo. Ha fatto il sottosegretario alla giustizia, un avvocato di grido e lui dice che il problema è il rapporto con Paolo Romeo. Sapete qual è il rapporto? E che è dentro un'inchiesta su una drangheta. No, vabbè, ma quello dico io. Ok, però mi interrompete sempre. No, 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 non interrompo. Lui ha detto che l'inchiesta è un problema, ma il vero problema sono i rapporti con Paolo Romeo. Sapete che rapporti aveva gravissimi Valentino con Paolo Romeo? Era l'avvocato, svolgeva la sua professione. No, Paolo Romeo lo faceva votare, Paolo Romeo gli faceva le campagne elettorali, leggiti le intercettazioni. Fatto sta che questo non è un incidente di percorso. Era l'avvocato, era l'avvocato. Nel 2004... E perché l'avete ritirato allora? Ok, un attimo, posso parlare? Madonna come si è agguerrito stasera. Allora, nel 2004, 19 anni fa, viene... viene fuori una questione che interessa la magistratura regina. Adesso ditemi voi, è civiltà giuridica che sta a 19 anni una roba lì? E poi il giorno, l'ora che stai per essere eletto al Consiglio Superiore della Magistratura? una manina da un ufficio, un parlamentare locale dei Cinque Stelle, due testate giornalistiche tirano fuori questa cosa. Questo è il problema della civiltà giuridica. Qui parliamo di un galantuomo che faceva la sua professione di avvocato penalista di Romeo. Allora, scusate, questo avvocato... gli avvocati penalisti, chi devono difendere? Scusate, chi devono difendere? Perché se non difendono le persone che sono sotto processo, chi devono difendere? Difendono le persone sotto processo. A parte il fatto che quest'idea che ieri una manina ha tirato fuori una notizia segreta, è ridicola. Se mi facevate un colpo di telefono anche una settimana fa, ve lo dicevo io che era sotto indagine, perché lo sanno tutti, lo sanno tutti, è sotto indagine da anni e questo è un problema di lentezza della giustizia italiana. 2004, Marco, 2004, 19 anni. Ma non ce la si cava così, perché quello è il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma ti pare che puoi mettere uno che è sotto indagine e dopo che magari viene eletto Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura avete l'imbarazzo perché magari può capitare che te lo rinviano a giudizio o che Romeo si ricorda qualcos'altro di lui. Ma è l'opportunità politica che vi ho detto. Ma rendetevi conto della selezione della classe dirigente che fate. Quando sarà archiviato ci sarà l'imbarazzo al contrario. Ma io lo spero, ma i rapporti rimangono comunque. Non lo devi sperare, ne puoi star certo.